Affrontiamo ora un argomento abbastanza corposo, quello della guida in stato di ebrezza. Studieremo gli articoli 186, in particolare, con dei riferimenti anche dal 186 bis. Cominciamo subito col dire come viene accertato che una persona sta guidando in stato di ebrezza alcolica. Sono possibili degli accertamenti con diverse strumentazioni. Quello più comune, quello il primo che vediamo, sono degli strumenti portatili che gli agenti di pulizia stradale hanno con sé. Generalmente un pretest, uno strumento per i pretest che non ha valore legale, ma indica semplicemente se una persona potrebbe essere superiore allo 0,5 di grammi su litro, ma non dà una misurazione, quindi non ha un valore legale da questo punto di vista. E poi se questa persona è positiva, risulterebbe possibilmente positiva, si sottopone a etilometro, quindi uno strumento omologato che stampa un accertamento indicando i grammi su litro. Questi accertamenti fatti sul posto vengono fatti generalmente due volte, ovvero se la persona risultasse positiva, quindi oltre la soglia prevista, dopo un tot di minuti stabiliti al momento, potrebbero essere 10-15 minuti, se la persona lo ha consente, si sottoporrebbe una seconda volta a etilometro e la nuova misurazione verrebbe confrontata con la prima. Avendo due misurazioni, verrebbe tenuta quella più bassa, quindi a favore della persona che si sta sottoponendo. E capita, capita spesso, che con la seconda misurazione magari cambi proprio anche la violazione o magari venga accertato che è inferiore alla soglia minima e quindi non c'è nessuna violazione. Per spiegarmi meglio, la prima misurazione potrebbe dare 0,6 e quindi essere in violazione amministrativa, la seconda misurazione potrebbe dare 0,48 o anche 0,50 e quindi essere al di sotto della soglia e non essere più in violazione. Oppure potrebbe dare la prima misurazione un valore che configura una violazione di tipo penale, per esempio oltre lo 0,8 e la seconda misurazione è dare un valore tra 0,5 e 0,8 e quindi configurarsi una violazione amministrativa. Queste sono fatti specie che capitano spesso durante gli accertamenti di tasso alcolico. Se l'ordine di polizia stradale, gli agenti non hanno con sé strumentazioni portatili, possono, se ci sono le condizioni, se la persona abbiascica, se ha odore, se c'è odore di alito alcolico, se ci sono queste condizioni, quindi giustificando queste condizioni, possono accompagnare, sempre se la persona acconsente a ciò, l'individuo, il conducente, all'ufficio o al proprio comando per sottoporsi ad accertamento, quindi con le strumentazioni che hanno con sé in ufficio. Altrimenti, questo capita durante gli incidenti stradali, dato che le persone vengono soccorse, possono essere soccorse dal personale sanitario, magari trasferite in ospedale, per accertare se stavano guidando il stato di ebrezza, non è possibile andarli con l'etilometro, mentre i sanitari si stanno prendendo cura del ferito, del conducente ferito. Allora si evita di usare le proprie strumentazioni portatili, si fa semplicemente una richiesta per il 186 alla struttura sanitaria che lo sta soccorrendo, che lo sta ricoverando, e saranno i sanitari a sottoporlo a esame del sangue, accertando quindi il tasso alcolemico. Per questo accertamento c'è una tempistica più lunga, ovvero sia il prelievo viene fatto chiaramente al momento, quindi al momento del ricovero, ma trascorreranno diversi giorni perché questo venga poi mandato ad analisi e perché queste analisi poi diano un risultato. Lasciando perdere l'occasione dell'incidente stradale, che è particolare, generalmente quando viene accertato con prova etilometrica il superamento della soglia, quindi la guida in stato di ebrezza, sorge un nuovo problema, il fatto che il veicolo deve essere affidato a una persona idonea. Giustamente se questa persona sta guidando in stato di ebrezza, non potrà essere lui a condurre il veicolo fino alla propria destinazione. Dunque questo veicolo dovrà essere affidato a una persona idonea, una persona quindi che non è in stato di ebrezza, magari un altro passeggero, magari il proprietario del veicolo, chiunque ne abbia diciamo titolo e possa condurre questo veicolo. Oppure dovrà essere fatto trasportare, quindi da un carroattrezzi, nel luogo indicato dal trasgressore, dal conducente o dal proprietario, a spese sue, non a spese della collettività. E vediamo, dunque, cominciamo a vedere quelli che sono i limiti entro cui si configurano delle violazioni. E qui passiamo all'articolo 186 bis. Cominciamo da questo, perché nel 186 bis sono descritte alcune categorie di persone, di conducenti particolari, che hanno come limite zero. Generalmente vedremo che il limite entro cui si può bere e guidare è 0,5 grammi su litro. Se si è al di sotto di questa soglia o pari a 0,5, generalmente non si configurano violazioni. Ma alcune categorie di conducenti hanno soglia zero, cioè anche con mezza birretta, anche con un grappino o quant'altro, un minimo drink alcolico, se si mettono alla guida prima che questo alcol sia smaltito e vengono sottoposti, hanno 0,1, hanno 0,2, sono in violazione. La violazione è amministrativa, comunque. Quali sono queste categorie di persone che hanno limite zero? Quindi anche uno 0,1 configura una violazione. Sono conducenti minori di 21 anni, tutti i minori di 21 anni. E anche i conducenti neopatentati, quindi che hanno conseguito la patente B da meno di 3 anni. Hanno limite zero. Attenzione. Conducenti poi che sono in attività di trasporto cose o persone, quindi pensiamo al corriere che ci porta i pacchi Amazon, piuttosto che il conducente di un pulmino o di un NCC o di un taxi. O vediamo, ecco, appunto, autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, vari autocarri o superiori a 9 posti, quindi gli autobus, conducenti di autobus, di pullman, oppure ancora conducenti di veicoli autoarticolati o autosnodati. Tutte queste categorie di persone, dico di conducenti, hanno limite zero. Quindi anche 0,1 configurerebbe una sanzione amministrativa tra i 168 e i 678 euro, poi sapete che questi valori nel tempo possono cambiare, potrebbero aumentare, ma attualmente sono questi, la decortazione di 5 punti dalla patente o dal CQC. Queste sono quindi le categorie che hanno limite zero e che si riferiscono all'articolo 186 bis, ricordatelo. Nel 186 invece troveremo le varie altre soglie di tasso alcolico. Dicevamo che sotto lo 0,5 per i conducenti normali non si configurano violazioni, anche pari a 0,5. Dallo 0,5 in su si configurano queste violazioni. Quindi un valore compreso tra 0,5 e 0,8 grammi su litro configura una sanzione amministrativa e una violazione amministrativa. È l'unico ancora amministrativo, anche se da tempo si sta parlando di far diventare violazioni amministrative anche le altre, perlomeno le brezza media che vedremo dopo. Ma per adesso amministrativa è solo questa. quindi tra 0,5 e 0,8 che significa sanzione da 500 euro in su, la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della patente dai 3 ai 6 mesi. Ho dimenticato di dirvi una cosa prima, attenzione ricordatevi che nel 186 bis si decurtavano 5 punti, ma ricordiamoci che i neopatentati, quindi prima dei 3 anni della patente, raddoppiano la sanzione di decurtazione dei punti, quindi ne perderebbero 10. 10 come questi, come la sanzione tra 0,5 e 0,8. Sono 10 punti sulla patente e la sospensione da 3 a 6 mesi. Vedete che nelle slide, in fondo alla slide, vi segno, vi segnerò anche nelle prossime, cosa succede per i conducenti di cui si fa riferimento al 186 bis. Perché prima abbiamo visto che quei conducenti hanno il limite 0, ma se loro superano lo 0,5 si configurano le violazioni che stiamo vedendo adesso, non più quelle della slide precedente, perché quella era solo entro lo 0,5. Quindi vi facevo l'esempio dello 0,1. Se un conducente, quindi un tassista piuttosto che un neopatentato, supera gli 0,5 di tasso alcolico, vedrà le sanzioni che vedete in questa slide aumentate di un terzo. Tutte queste sanzioni aumentate di un terzo. E questo vale anche per le prossime, quindi ricordatevi che aumentano. Questo però è ancora amministrativo. Passiamo alle violazioni che sono di natura penale. Per adesso, dallo 0,8 all'1,5 grammi su litro, quella che si definisce ebrezza media, è di natura penale. Anche se si parla di trasformarla in violazione amministrativa. Ma ancora non è così. Che cosa prevede quindi questa violazione penale? Prevede non più la sanzione amministrativa, ma una ammenda superiore agli 800 euro. Inoltre c'è l'arresto fino a 6 mesi, o in alternativa i lavori di pubblica utilità, che vedremo più avanti, ma intanto ricordatevi questo, la decortazione di 10 punti, la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno, o in caso di recidiva nel biennio, la revoca della patente. Quindi due violazioni penali di natura, di tasso di guida e stato di ebrezza, due violazioni penali nell'arco del biennio, portano all'arrivoca della patente. Ricordatevi che i conducenti di cui ha l'articolo 186 bis, che abbiamo visto prima, quindi andatevi a rivedere quella slide se non ve lo ricordate, o se questa violazione viene rilevata nelle ore notturne, che sono tra le ore 22 e le 7 del mattino, sono aumentate le sanzioni da un terzo alla metà. Quindi sia l'ammenda, che l'arresto, che la suppressione della patente sono aumentate da un terzo alla metà. Un'altra violazione di natura penale è se la guida e stato di ebrezza alcolica è superiore a 1,5 grammi su litro. In questo caso l'ammenda parte dai 1.500 euro, l'arresto è dai 6 mesi a 1 anno, mentre prima era fino a 6 mesi, o in alternativa può essere trasformato in lavori di pubblica utilità. Ci sono anche qui 10 punti e la suppressione della patente va da un anno a due anni. Viene raddoppiata la suppressione della patente se non è proprietario. Anche qui c'è l'arrivo cadente della patente se c'è la recidiva, oppure, questo è un caso particolare, che sarà simile alla guida in stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, oppure c'è la rivoca se viene causato un incidente stradale. Quindi se si causa un incidente stradale, poi vedremo una specifica sull'incidente stradale, ma intanto ricordatevi che se si provoca un incidente o si è coinvolti in un incidente stradale, non per forza, dopo vi spiegherò questo, si deve causarlo in via, diciamo, principale, ma si è coinvolti e si stava guidando al di sopra di 1,5 grammi su litro, c'è la rivoca della patente di guida. Inoltre c'è la confisca del veicolo, se si è proprietario, ma questa confisca avviene con sentenza di condanna. Quindi ci sarà il sequestro che poi si trasformerà in confisca, potrebbe trasformarsi, con sentenza di condanna. In caso di, ecco, vi ho segnato, in caso di, dell'articolo 589 bis del codice penale, che sarebbe l'omicidio stradale, in caso di omicidio stradale, in cui si rivela, si rileva, che si è al di sopra di 1,5 grammi su litro, quindi è brezza grave, c'è l'arresto obbligatorio in fragranza. È l'unico caso, è l'unico caso assieme alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, se provocano un incidente mortale, è l'unico caso in cui c'è l'arresto obbligatorio in fragranza. Anche qui vedete la riga sotto, ricordatevi che le sanzioni aumentano da un terzo alla metà nelle ore notturne o per i conducenti particolari che abbiamo visto prima. Questo sarà, vi consiglio anche di riguardarlo, di studiarlo, sono le varie soglie entro cui si configurano diverse violazioni. c'è però una possibilità, vi dicevo all'inizio che la persona viene sottoposta a pretest, a etilometro, oppure accompagnata presso il comando, oppure sottoposta ad accertamenti, a analisi del sangue in ospedale. però se lei si rifiuta di sottoporsi a una qualunque di queste cose, quindi anche il pretest, il pretest che non ha neanche valore legale, ma è solo appunto un pretest che ti dà un'indicazione se puoi magari effettuare un accertamento con etilometro o quant'altro. se lei si rifiuta questo costituisce una violazione, quindi non è contemplato dal legislatore che una persona possa rifiutarsi di sottoporsi a una prova del tasso alcolico. Se si rifiuta è già in violazione e tra l'altro viene considerata come in modo simile alla violazione più grave, ovvero sia è penale, non è amministrativo, anche il solo rifiuto del pretest. È penale, non è amministrativo, magari lei non avrebbe neanche un tasso alcolico così alto, però si è rifiutata, quindi non è possibile accertarlo, quindi c'è una violazione penale con l'ammenda da un minimo di 1500 euro, l'arresto da sei mesi a un anno o che può essere convertito con lavori pubblica utilità, ci sono dieci punti di decortazione, la sospensione della patente da sei mesi a due anni, che viene raddoppiata se non si è proprietario del veicolo, oppure c'è la rievoca della patente, anche qui, come nel caso precedente, se c'è la recidiva o se si è coinvolti in incidente stradale. e c'è la confisca del veicolo se si è proprietario, quindi diciamo che non conviene rifiutarsi, generalmente è più raro che ci si rifiuti in questo caso, però è possibile, viene previsto. Anche qui c'è sempre l'aumento da un terzo alla metà per i conducenti particolari. Questo è il rifiuto. Vediamo ora, e ci avviamo verso la fine, vediamo ora cosa succede se si è, se si causa un incidente stradale o io preferisco dire se si è coinvolti in incidente stradale, perché lì per lì non è possibile stabilire una causa diretta, ovvero l'esempio che mi piace fare è che magari una persona è in ebrezza alcolica, sta guidando in modo praticamente normale, ma un altro per esempio passa col rosso e provoca l'incidente, agli accertamenti però risulta che tu stavi guidando in stato di ebrezza, anche se stavi rispettando tutte le altre regole del codice stradale, ma sei coinvolto in incidente, magari se non avessi bevuto sareste riuscito a frenare in tempo e di evitare lo scontro, al di là di questo ciò che viene rilevato è che tu sei coinvolto in incidente stradale e stavi guidando in stato di ebrezza, in tutti questi casi le sanzioni sono raddoppiate, anche se si è nella violazione amministrativa. Quindi le sanzioni vengono raddoppiate, pensiamo le violazioni amministrativa partiva da 500 e qualcosa euro diventeranno 1000 e vengono raddoppiate ad eccezione che ci si rifiuti di sottoporsi all'accertamento, qua non è contemplato, però il rifiuto è penale e parte da 1500 euro di ammenda con tutte le altre conseguenze tra cui abbiamo visto prima se si è coinvolti in incidente c'è anche la revoca della patente quindi anche se non vengono raddoppiate è abbastanza ingente la sanzione. Comunque vengono raddoppiate le varie sanzioni quindi sospensione della patente da 6 mesi diventeranno 12 almeno l'ammenda o la sanzione amministrativa pecuniaria e quant'altro in più c'è il fermo amministrativo del veicolo se si è proprietari quindi guidavi il veicolo di tua proprietà c'è un fermo di 180 giorni e se il tasso alcolico era superiore a 1,5 c'è la revoca della patente come abbiamo visto prima se ci sono danni a persone attenzione che si configurano bisogna vi ho messo come riferimento altri altri articoli tra cui il 222 del codice stradale che non tratterò qui ma vi consiglio di andare a vedere cioè nel 222 si si parla di sanzioni di sanzioni amministrative in conseguenza di accertamento di reati visto che con danni a persone si può configurare un reato appunto cioè le lesioni stradali le lesioni stradali quindi 590 bis o l'omicidio stradale 589 bis e si configura quindi un reato ci sono anche delle sanzioni che però sono trattate nel codice stradale al 222 noi non le trattiamo qui comunque con danni a persone bisogna fare riferimento anche a questi altri tre articoli che vi ho citato uno nel codice stradale e due nel codice penale arriviamo verso la fine vedendo che cosa succede alla propria patente allora tutte queste violazioni abbiamo visto che prevedono la sospensione della patente di guida per un tot di tempo c'è da dire una cosa come funziona non è l'agente di polizia stradale che sospende la patente in quel momento ma semplicemente la ritira la ritira e ho già fatto un video riguardo questo la patente sarà inviata poi alla prefettura e sarà il prefetto a dover con un proprio diciamo con un proprio decreto ordinare la sospensione per un tot di tempo quindi stabilire la durata della sospensione vista la situazione specifica per esempio da sei mesi a un anno potrebbe dare sei mesi potrebbe dare fino a un anno di sospensione la sospensione parte dal giorno del ritiro ma viene ufficializzata poi con la notifica della sospensione all'interessato quindi il prefetto ordina la sospensione che cosa farà? ordinerà in questo caso perché parliamo di guida stato di ebrezza ordinerà alla persona di sottoporsi a una visita medica di cui all'articolo 119 del codice stradale entro 60 giorni a queste visite mediche al giorno d'oggi si fanno anche delle analisi per esempio l'analisi del capello per stabilire se uno è un consumatore abituale di alcol quindi per ridare la patente a questa persona al di là della sospensione proprio per ridargli la patente vengono fatte degli accertamenti se non viene effettuata o se risulta un tasso superiore all'1,5 grammi su litro c'è la sospensione della patente fino all'esito della visita medica cioè finché non si va a fare questa benedetta visita medica anche se la sospensione era di 6 mesi non si può riavere la propria patente cioè la patente resta sospesa quindi ricordiamoci che c'è questa visita medica prima di poter riavere la propria patente non è una sospensione normale come può essere per eccesso di velocità o altri casi è una sospensione particolare che richiede delle analisi simile poi a quella che vedremo nell'articolo 187 cioè la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti allora abbiamo visto che due fatti specie sono di violazione sono penali diciamo sopra lo 08 prevedono l'arresto l'arresto nella maggioranza stragrande maggioranza dei casi viene in realtà convertito poi in lavori di pubblica utilità quindi ci saranno delle udienze e una volta possono essere convertiti ad eccezione di casi previsti dal comma 2 bis cioè se si causa un incidente stradale comunque ci sono questi lavori di pubblica utilità che sostituiscono la pena detentiva e hanno durata corrispondente quindi se era 6 mesi di arresto o un anno di arresto c'è un anno di lavoro e può essere anche convertita la pena pecuniaria ovvero sia per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità viene convertito 250 euro di pena pecuniaria dunque al posto di pagare l'ammenda col lavoro di pubblica utilità si arriva in qualche modo a convertire questa pena se il lavoro di pubblica utilità risulta positivo quindi viene eseguito va tutto bene diciamo se è positivo il risultato il reato viene estinto la sospensione della patente viene dimezzata quindi se era un anno diventano sei mesi e può essere revocata la confisca del veicolo nei casi in particolare quando il tasso alcolico era superiore a 1,5 quindi viene revocata questa confisca finiamo con l'ultima slide cosa succede ai minori di 18 anni abbiamo visto che nel 186 ci si riferiva ai neopatentati ma i neopatentati con patente B devono avere almeno 18 anni ci si riferiva ai minori di 21 anni ma c'è un caso particolare ci sono dei conducenti che hanno meno di 18 anni che magari guidano quei motocicli scusate quei ciclomotori che sono anche facciamo l'esempio di quelle di quelle auto di quelle piccole auto che vediamo che hanno la stessa targa di un ciclomotore ecco possono essere guidate anche da minori di 18 anni questi giustamente potrebbero anche però bere al di là del fatto che legalmente un minore di 18 anni non può e non li possono essere venduti alcolici quindi sarebbe anche da capire chi li ha venduti però lasciando perdere questa fattispecie in questo caso viene semplicemente accertato che aveva bevuto questo ragazzo o questa ragazza ha meno di 18 anni quindi c'è un caso particolare secondo l'articolo 219 bis non può essere sospesa la patente a un minore di 18 anni il legislatore ha previsto questo la patente non può essere sospesa ma viene mandata a revisione secondo l'articolo 128 quindi non c'è la sospensione ci può essere tutte le altre fattispecie ma non la sospensione viene mandata a revisione inoltre essendo minore di 18 anni non potrà essere proprio proprietario del veicolo quindi bisognerà poi considerare tutta quest'altra serie di cose il fatto che saranno avvertiti i genitori il fatto che la sanzione stessa poi l'obbligato sarà il genitore o chi ne ha comunque la tutela ma quello che ci interessa in particolare è questo che vi ho messo nella slide oltre al fatto che la patente non viene sospesa l'età per conseguire la patente B aumenterà perché lui è stato trovato in stato di ebrezza quindi dovrà poi comunque andare a visita medica di revisione della patente gli faranno le varie analisi anche lì per capire se è un consumatore abituale per poter conseguire la patente B non potrà più farla a 18 anni ma se era entro gli 0,5 perché sapete che anche lui anche il 18enne il minore dei 18 anni scusate ha il limite 0 giustamente come abbiamo visto prima quindi se viene trovato con 0,1 non potrà conseguire la patente prima dei 19 anni se invece viene trovato con un tasso alcoolemico più alto quindi oltre gli 0,5 non potrà conseguirla la patente B prima dei 21 anni quindi tutte queste sono le conseguenze la guida è stato di ebrezza ha come vedete delle gravi conseguenze anche molto serie e i controlli sono anche molto molto specifici e vengono comunque fatti molto spesso a volte anche con posti di controllo rafforzati specialmente la sera ma ecco anche pensare che solo la sera si possa essere sottoposti ad alcol test è un'illusione non è vero certamente più spesso la sera che viene fatto ma al di là del caso dell'incidente stradale in qualunque momento è possibile che un agente di polizia stradale sottoponga a preteste o a etilometro un conducente vi ringrazio questo è stato uno dei video più lunghi sicuramente possiamo proseguire con gli altri grazie